il bambino nasce cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 a cura di vb nascita 179 a 181 a il nuovo corpo fisico comincia ad entrare in collegamento con il nuovo corpo astrale e con il nuovo corpo mentale durante la gestazione il contatto vero e proprio comincia al momento in cui il bambino nasce il contatto con il corpo fisico principalmente ma anche con il corpo astrale e con il corpo mentale prima con il corpo astrale secondo le varie fasi il contatto con la coscienza o corpo acasico vedi il corpo più elevato si può dire completo intorno ai 21 anni 58 g la nascita non ha dolore perché prima di nascere si cade in una sorta di torpore vi è una specie di attutimento non di incoscienza e si è presi come in un vortice e ci si risveglia lentamente già collegati con il corpo fisico c'è questo risucchio questo vortice che prende nel momento in cui un essere deve incarnarsi e a mano a mano che è preso in questo vortice dimentica quello che sapeva fino ad allora interviene l'oblio rimane solo il senso di esistere solo il sentirsi di esistere che è eterno prima di quel momento l'individuo ricordava chi era stato ad un certo livello di evoluzione diciamo l'individuo può sapere anche cosa viene a fare ma questo lo sa prima nella fase antecedente a quel vortice poi c'è il collegamento vero e proprio che comincia quando l'individuo è uscito dal grembo materno 62 g vedi oroscopo 193 g grembo materno 62 g